Cari amici! Benvenuti in questo nuovo unboxing della scroller box! Non sei felice che finalmente un po' tante settimane torna? Che stai facendo? Eh, prendo il mio pagamento! No, rimettilo lì! Dovevo far vedere tutti gli oggetti prima di cominciare! Aspetta, faccio arte, creo arte! Non è arte questo! È la lingua questa? Aspetta, aspetta! Buttiamo via la caramella e pensiamo alle cose serie! Questa scroller box è dedicata agli articoli d'ufficio! Avete presente quei momenti a scuola in cui mi prendo lo scoraggiamento? Dite, oh che scatole, ancora matematica! Mi metto a prendere un evidenziatore di un colore orribile e ci faccio il ritratto della prof di matematica! Allora, questa è la mia professione di matematica delle medie! Con quel naso! Con quel naso, esatto! E poi a volte aveva anche gli occhiali, quindi ecco, fantastico! Questo è il mio prof di matematica delle medie! Poi però arrivano anche momenti in cui uno dice, sì però, tutto sommato, Anche la prof d'italiano non è che mi sia tanto simpatia, quindi facciamo il ritratto della prof d'italiano! Praticamente stiamo facendo quello che un tempo si faceva con le foto di classe a fine anno, invece chi ve lo fa direttamente con le matitine! Esatto, come vedete queste matite hanno una finitura che è un po' simile a quella dell'evidenziatore! Volete far proprio vedere bene i vostri disegni anche al buio? Questo potrebbe essere una buona idea! Aveva gli occhiali anche lei, perché apparentemente i miei professori avevano tutti gli occhiali, e questo era il corpo! È piccoletta! Eh sì, era un po' più bassa del professore, quindi ho cercato di mantenere anche le proporzioni corrette! Questo evidenziatore è troppo bello per usarlo, quindi non lo useremo, andremo piuttosto a usare questo pennarello! Con questo pennarello disegnerò quella che per me era la scuola media, ovvero un edificio che prendeva fuoco costantemente, perché era un inferno, aveva anche le corna, quando stessi avvicinavi troppo vedevi che aveva proprio le corna e la coda da demone! A volte compariva anche una manina che teneva in mano il forcone, esatto! Queste erano le mie medie, ecco! E poi possiamo anche disegnare una piccola chiria che andava a scuola tutti i giorni e diceva nooo! Ogni volta che si avvicinava! Posso capire? Io avevo dato un po' un piede! Comunque! Poi abbiamo anche da provare questi altri quattro articoli, ovvero abbiamo un micro evidenziatore giallo, una piccola penna a china nera, una penna blu buona per farci i compiti in classe e un lapis. Comunque sia, adesso vorrei anche farvi vedere che cosa ho combinato per la sfida del mese, perché per chi non conoscesse la scroller box è una subscription box che vi fa arrivare a casa degli articoli a disegno con cui dovete creare un disegno scelto da loro o farci un po' quello che volete. In questo caso la sfida è dedicata a dare un po' di luce alla propria scrivania. C'era questo bel quadernino viola in dotazione per fare gli esperimenti e questo è quello che io ho creato, ovvero la mia scrivania con un po' di slime colore evidenziatore che stanno dando fastidio. Che carini che sono! Sembra un pochino magari un joypad, come lo usa, tipo si mette le mani qua, guarda, clicca, poi anche col palmo della mano... Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Dall'altro, come potete vedere, questa qui è una carta spessa e soprattutto ruvida che è veramente pessima da usare con l'evidenziatore che invece richiede una texture liscia. Infatti normalmente la carta da ufficio è liscia, quindi se siete a scuola e avete un diario che volete imbrattare, come ho fatto io con questa pagina, fate pure, ma non usate la carta da disingorubida perché altrimenti vi farà tutte queste cose. Onestamente preferivo la carta liscia, però questo quaderno l'ho usato anche per altre cose che però adesso non si devono guardare. Adesso che vi ho mostrato la bellissima scuola, anche a Elto che va a fare un po' di arte perché non vedeva l'ora di farla, vero? Ah, certo, aspetta che recupero. No, no, non si recupero. Via! Via, forza, disegnami anche tu qualcosa di scrivanie o roba del genere. Disegno la mia scrivania. Sì, vai, disegna la tua scrivania. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo qua un pochino di... il tavolo, per esempio. Quindi il tavolo mettiamo dritto per evitare problemi con le prospettive. Oh, un bel tavolo dritto dritto. Poi, per esempio, sopra il tavolo, per esempio, c'è il mio computer che predistingo da quello brutto di Kiria. Cosa vuol dire questo? Lo faremo così. Allora, qui abbiamo la tastiera e poi c'è il computer. Va, che bello, eh? Per esempio... Bello. E ovviamente, visto che... È in 2D, immagino, il disegno al momento. Esatto, ci scrivo L sopra, sullo schermo l'ho scritto proprio con le forbici per fare in modo che Kiria non possa mai usarlo. Poi abbiamo anche il computer di Kiria che invece, visto che lei non ha mai cura delle sue cose, è tipo... Ma non è vero? Tutto sgangherato. È più pulito del tuo il mio computer. Esatto, e sopra naturalmente ci ha disegnato un gatto che le fa la cacchetta sopra. Effettivamente sta tenendo Norby come il fondo del desktop. Mi vergogno a dirlo, ma è la verità. Appunto, naturalmente, sotto il tavolo non può mai mancare, ovviamente, un Pikachu, perché... Abbiamo un Pikachu sotto il tavolo e non me ne sono mai accorti. Esatto. Non lo sapevi? Ah, no, non lo sapevo. Eccolo qua, guardalo. Ecco che mi grattava le gambe ogni sera. Guarda che l'ho fatto anche caruccio. Gli mancano solamente qualche piccola finitura, tipo... Le guance. Le guance. Le guance, perché si è un po' stinto dopo la lavatrice. E poi, vabbè, allora, la parte marrone... La mira della coda. Ce l'ha, vero, una parte del genere? Non mi ricordo se è alla base o in cima alla coda, ma ce l'ha. Ecco, poi un pochino anche così. Eh sì, eh. E abbiamo il Pikachu. Ovviamente, visto che bisogna capire che sia lui, ci ha scritto P sopra, perché non si sa mai... P. Di pirla, secondo me. No, aspetta, è di pica. 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 Eh, che bello. E poi, naturalmente, nella schivania, come tutte le schivanie che si rispettino, sopra la schivania c'è una piccola schivania. Ah, sì, è quella che usano i fantasmi in casa nostra. Quella che usano i fantasmi. E infatti, e infatti, sotto la schivania che fa compagnia a Pikachu, c'è un fantasma. Eccolo qua. Sembra un fantasma di quello di Pac-Man, direi. È un fantasmino, guardalo lì, con la faccia anche un pochino arrabbiata. Perché, ecco qua, guardalo. Sai perché ha questa faccia? Perché, come vedi, è sotto la tua parte, quindi li ti praticamente calci da mattina a sera. Poverito, non se lo metto. È bello. Comunque, vorrei che tu provassi anche le matite fosforescenti, che le usate soltanto per fare le guance di Pikachu. Posso mostrare che cosa ci ho comiate queste matite? Ok. Come vi ho spiegato, questa carta del quaderno è abbastanza ruvida, è più adatta quindi alle matite piuttosto che ai evidenziatori. Infatti, ho provato a fare un tentativo usando soltanto le matite per disegnare. Ho tirato fuori questa donnina random, giusto per provare a fare qualche sfumatura. Devo dire che si sono fusi abbastanza bene insieme come matite. Quindi adesso anche El proverà a usare solo le matite. Come solo le matite? Solo le matite. Queste? Queste tre, esatto. Giallo, azzurro e arancioso. Vai. Ah, ok. Allora, cos'è sta cosa? Stavo provando a disegnare la scrivania. Ancora? Va vai, disegnaci qualcosa sopra. Disegnaci un'aura di bellezza e di arte. Ok. Allora, facciamo che quindi qui c'è il cielo. Il cielo, il cielo, il cielo che è blu, si sa. Il cielo che è blu e quindi per riconoscio faccio lo sfondo. Ci piove in casa allora noi. Ho praticamente il contorno delle nuvole. Ok, abbiamo le nuvole sopra la testa quando registriamo perché noi ci sentiamo più rinfrescati. E qui sopra naturalmente... Pioge acide, vedo. Ah no, fulmini. Ah, invece è Pikachu sotto la scrivania. Esatto. E lui che richiama i fulmini, giustamente. E come vedete distrugge il computer di fila. Ma no, mi sembra... Come dico, lo tiene sempre malissimo, quindi anche sotto l'intempere a tutti i giorni. Ma no, è vero. E naturalmente piove. Solo sopra il mio computer. Sopra il computer di fila. Solo sopra il mio computer. Esatto. Poi naturalmente io invece, come vedete, sto giocando a Pac-Man. Ecco qua. A Pac-Man. Sto giocando a Pac-Man, gioco a Pac-Man tutti i giorni. Ma non è vero, non giochi a Pac-Man. Da 60 anni che gioco a Pac-Man tutti i giorni. Ma tu non hai neanche nato 60 anni fa, credo. Aspetta, gli metti i denti. È una versione potenziata di Pac-Man. Perché hanno potenziato Pac-Man in questo modo? Che c'ha anche il turbo. Che è un pesce rosso diventato. Siamo una boccia dei pesci adesso. No, aspetta, perché c'ha il turbo. Aspetta che gli faccio le fiamme. Ma cosa? Che praticamente escono dallo schermo. Eppure. E incredibilmente vanno a bruciare il computer di Tria. Ma perché? A meno farlo un po' più rosa. A meno si riconosce che è il mio computer. Hai ragione, aspetta. Coloriamolo. Tra l'altro stiamo attenti a colorarlo bene. Non uscire dai bordi. Perché sennò poi Kira si arrabbia. Dice, lui l'hai fatto male. Invece guardate, con una massima precisione. Tinto perfetto. Quello bello. Il mio computer invece, eccolo qua. Lo mettiamo. Il mio ovviamente non serve a farlo tutto blu. Perché si capisce già che è quello bello. E gli mettiamo solamente una faccettina simpatica. Che sorride lì sotto. Invece Kira non so cosa sta facendo. Ma mi preoccupa. Sotto ci sta scrivendo una scritta. Ovvero. Pi... Pi... Beh, aspetta. Ovviamente Kira non ha finito di scrivere. Perché in realtà, qui sotto, altro che... Non si nasconde altro che... Un tenerissimo. Eh... Cos'è? Un Pikachu viola? Hai bilato col fantasma? Aspetta. Un pipistello. Eh... Un Golbat. Aspetta. Un Azubat. Un Nordistrello. Pirlaciu! Pirlaciu! Cos'è Pirlaciu? Il grandioso, il leggendario Pirlaciu. È l'unico Pokémon che è stata in grado di prendere. Ma che cosa vuol dire? Gli mettiamo le guanciottine. Guarda che bello che è. E ovviamente con la scritta P di Pirlaciu. Pirlaciu. Abbiamo creato un nuovo Pokémon che andrà a spopolare negli anni a venire. Naturalmente bisogna aiutare a dare qualche sfumatura a queste bellissime nuvole. Quindi aspetta che ci metto le sfumature. Allora gli scrivo. Aspetta. E ecco. Una sfumatura. E come vedete sono io. Sono stato io. Qui vedete c'è scritto L. E infatti in realtà sono io. Che sono una nuvola che colpisco e distruggo il computer di Kira. In tutti i modi che posso. Mi mancava la faccia la nuvola. È vero. È vero. Di solito quando esco di casa faccio sempre questa impressione alle persone che mi vedono. E tendono a cambiare strada. E c'è quella lì la faccia crudele di Kira. Che infatti per sicurezza del mondo non esce mai di casa. Ma cosa stai dicendo? Questa invece è la nuvola Kira. Che piove sul computer di L. Fulmini rosa. Che infatti lo tingono completamente di rosa. Ok. Abbiamo vandalizzato il tuo computer. Cos'è adesso uguale al mio? Ma. Ma. Naturalmente a quel punto i nostri getti energetici vanno a cozzarsi l'uno contro l'altro. C'è una mega esplosione. Un varco pseudo temporale. Che quindi praticamente. Da cui è uscito Norvi. Quindi c'è tutta la storia. Praticamente io stavo giocando a Pac-Man. Kira stava rovinando il suo computer come sempre. Perché Pirla ci aveva fatto le sue cose sopra. A quel punto le nostre nuvole sono andate ad attaccare i nostri computer. E grazie a questo varco spazio temporale è uscito Norvi. Quindi è una specie di circolo completo che fa capire quanto siamo completamente fuori di testa. Ok. Quindi adesso è l'ora che andiamo dal centro psichiatrico perché la nostra ora di libertà è finita. Se vuoi aggiungere qualcosa a questo disegno sei libero di farlo? Qualcosa a questo disegno? Se te la senti nel senso. Poi c'è aumentata la dose di pillole per questo. Ah ci aggiungo. Ok. Finisco di creare il corpo di Norvi. No lo crea il corpo di Norvi. Non è una nuvola anche Norvi. È peloso. È uscito più o meno da due nuvole. Non è che due nuvole che si incontrano possono poi fare chissà che cosa. Però bene naturalmente c'ha la coda. Guarda che bella coda che c'ha. Le zampette. Eccolo qui. Come le ha messe queste zampette? Come le ha messe? E perché la coda di spunta è data dalla schiena invece che dalle chiappe? E qui come vedete queste qua sono in realtà le chiappe di Norvi. Che come vedete fa la cacchetta proprio dove disegna una bella X. Colpicci di Norvi. Vai. Vai. E mi raccomando più prugne domani. Cosa? Giusto? Le prugne. Questa in realtà altrimenti è che una gigantesca prugna che ho dato da mangiare a Norvi. Come siamo arrivati fino a questo punto? Ok quindi fateci sapere nei commenti qual è l'interpretazione dell'illuminare la schivania che vi è piaciuta di più se con degli slime gelatinosi oppure con nuvole che piovono e prugne e gatti e pirla cioè caramella via. Grazie a tutti e alla prossima con l'Eterna Love. Ciao! Ciao!